Rida a sua zia Non partiranno, benissimo, vedrete quanti andranno a vederli Non c'è che faccia così, lo faccia a sua zia, lo faccia a sua moglie, lo faccia così Maleducato, maleducato, faccia così a sua zia Impari a essere ospitale, impari a essere ospitale Certo io sono qua, non mi lascia parlare, dice argomenti del cazzo Con la centra alla mostra, non è una mostra, è un simbolo Faccia così, faccia così, faccia così, lei è maleducatissima E vedrà i risultati dei pronti a Reggio, li vedrà Sono stati 1700 giorni distesi e non li vedeva nessuno Si vergogna per la Calabria, si vergogna di quello Ma venga qua, gliel'ho detto, viene qua a parlare di carte Ma Zaniel, venga qua, argomenti, usi la logica, mi dica che cosa No, 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 un attimo, allora, non è molto chiaro il discorso qui Non è chiaro il discorso, lei ha avuto, no, lei ha anche avuto il microfono Ora basta però, ora basta, ora basta perché non è possibile Non è il suo palcoscenico, non è il suo palcoscenico La prego di accomodarsi, non lo sta onorando forse perché lei è da mezz'ora che parla di altro La prego di accomodarsi, la prego Ma lei non ha detto capra, tu sei la capra, non lei, capra sei tu E si vede dalla faccia che hai, con le corna